La consulta europea del Consiglio regionale ha organizzato il viaggio studio a Trieste, Ljubljana e Zagabria per 36 studenti delle scuole superiori, vincitori del concorso Diventiamo Cittadini Europei. La delegazione piemontese ha partecipato a Trieste al Debate on the Future of Europe e all'incontro con la vicepresidente della Commissione Europea Vivian Reding. Inoltre ha visitato i parlamenti di Slovenia e Croazia.